Giancarlo Giannini, nato alla Spezia il 1 agosto del 1942, compie 80 anni. Ma, come ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera, non festeggerò, non sono tipo d'anniversari, non mi importa del passato, penso al futuro, alle cose che posso ancora fare. Attore teatrale diventato divo internazionale del cinema italiano, vincitore di tantissimi prestigiosi premi, tra cui sei David di Donatello, altrettanti nastri d'argento, cinque globi d'oro e una stella sulla Walk of Fame di Toronto, il divo vanta una carriera ancora fitta di soddisfazioni e successi come nel recente I fratelli de Filippo di Sergio Rubini. E ha avuto una vita pienissima anche dal lato sentimenti. D'altronde, come ha ammesso in una recente intervista, le donne mi sono sempre piaciute, da quando mi innamorai la prima volta, non ricambiato, a sette anni. Poi è cresciuto, è diventato un sex symbol, e ha sposato due donne. Dalla prima moglie, l'attrice e regista Livia Giampalmo, da cui ha divorziato nel 1975, ha avuto due figli, Lorenzo e Adriano. Il secondo genito, che ha seguito Le Orme Paterne, oggi è un attore apprezzato in Italia e all'estero che ha girato con Madonna il remake di Travolti da un insolito destino. Il primo genito è morto a 20 anni, nel 1987, a causa di un aneurisma. Un dolore di cui Giannini è tornato a parlare lo scorso maggio in una puntata di Ti sento, quando morì mio figlio dissi, ora sta meglio lui di noi. Se ne è andato per un aneurisma, non so neanche come si chiami, voglio anche cancellare questa parola, è una vena che scoppia. Quando successe Giancarlo era a Milano, stavo facendo un film con Gasman. Presi un aereo e capì che forse non c'era più nulla da fare. L'unica cosa che potevo fare era quello in cui credo, io credo nel mistero, io credo in Dio, prego la notte sempre, sono fatto così. E quindi credo anche che la morte non sia questa cosa terribile. Certo è terribile per chi ci lascia, che è quello che si dice sempre, perché lui e non io? Vedere morire un figlio è una cosa terribile. Un giorno, stranamente, Lorenzo aveva chiesto al padre cosa c'è dopo la morte. Non sapevo come rispondere, gli raccontai una favola, immagina tanti colori nello spazio, esistono ma poi finiscono, è come una montagna da scalare, raggiungi altri colori. Gli raccontai la morte come una sensazione di conoscenza. Ero disperato ma non ho pianto, mi sono fatto forza anche per gli altri familiari, ho pensato che ha raggiunto la conoscenza, che sta meglio di noi che ci poniamo domande. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.